ecco la è tornata ragazzi a milano dato che finalmente è finito lockdown se volete fare dei massaggi drenanti o massaggi di ogni tipo poi vi faccio vedere il metodo che utilizza la differenza contattatela perché è bravissima lei ha sia studio che casa guardate la bellezza di questi sandali allora loro li fanno interamente a mano questi sono tutti svaroschi infatti vi rilasciano anche la certificazione andate sulla loro pagina perché li fanno su misura completamente pulizia del viso la facciamo con gli ultrasuoni è una pulizia del viso medicale quindi molto profonda esatto andiamo a disgregare tutto il legame tra le cellule morte portiamo tutte le impuretà verso l'alto così da pulire molto bene la pelle e perfezionarne la grana e tra l'altro io uso perché sapete che mi vengono le macchie spesso delle gocce di auto abbronzante purtroppo la cosa negativa è che mi sporca tanto la pelle in più sto facendo questa storia senza mascherina perché deve andare a lavorare qui ma lei è tutta coperta quindi veramente sì autorizzati a farlo allora abbiamo applicato un complesso di acidi dove all'interno si trova l'acido l'acido acido glicolico e salicilico in modo tale da andare un po' a schiarire le sercromini e quindi le macchie presenti sul viso e andare a pulificare tutto con vita la pelle può pizzicare leggermente tutto normale e lo lavoriamo ora invece applichiamo ora andiamo a restituire e abbiamo messo la vitamina b5 e stiamo andando a fare un massaggio ora mascherina di fatto abbiamo messo una maschera purificante e le argille nobili che sono le argille bianche così purifichiamo tutto tutta la pelle poi vedrete che luminosità allora ragazzi mi ero dimenticata di dirvi che se venite in questa clinica e volete fare tutti i trattamenti corpo con alma laser quindi radiofrequenza ultrasoni e laser epilazione avete con il mio codice sconto il 20 per cento di sconto vi lascio qua ovviamente il codice sconto se volete usufruirne ciao ragazze e ragazzi allora oggi vi volevo parlare di questo prodotto questo si chiama istabronze che cos'è per chi vuole rimanere abbronzato idratato tutto l'anno questo è un'auto abbronzante che è completamente made in italy quindi soprattutto per chi soffre di macchie e non può prendere il sole secondo me è un'ottima alternativa è usato da tanti italiani se volete io vi lascio link swipe up fate così e vedete direttamente il sito dove poterlo acquistare perfetto prendo la tua mano la buona si è vero allora ho fatto questo filmato che sono qui ma non lo so ma come fa andare su ti volevo chiedere facciamo un regalo bacia a mano che figo è uguale che è anche un po' pure in london si si che guarda è di profilo solo pro ciao ragazzi allora praticamente vi volevo parlare di Siku Slim che cos'è? è un tè disintossicante è un tè prodotto in Europa tra l'altro questo tè si può bere fino a tre tazze al giorno prima dei principali passi ora vi faccio un po' vedere come si fa allora insieme troverete anche questo io ho già messo l'acqua qui mettete l'equivalente di un cucchiaino allora vabbè io lo faccio con la forchetta lo faccio con un cucchiaino e tra l'altro questo tè ha tantissimi benefici per il corpo perché cosa fa? oltre a drenare sgonfiare aiuta l'intestino aiuta chi ha i problemi di digestione aiuta la circolazione insomma a tutte queste cose benefiche stavo dicendo che si può insomma usare per tre mesi e poi ci si ferma per un mese solitamente si può portare in giro tramite questa bottiglia se no appunto mettete 250 ml d'acqua e ci sono due gusti il tè indiano e il kinogoji quindi niente aiuta tra l'altro anche a dimagrire e inibisce appunto l'appetito adesso io vi lascio lo sweep up per poterlo comprare guardate un attimo sito e tra di soli suai